La cosa che mi fa giocare a calcio quando c'è la telecamera che proprio mi piace tanto, mi gasa, è per i ragazzini che mi seguono. Io gioco a calcio e non smetterò mai, io tra vent'anni mi vedo capitano della Juve Creators, ho tutto, sono felicissimo, quando arrivo a casa la vedo, dormo con lei, è la sensazione più bella del mondo. E la gente che non riesce a capire una cosa del genere secondo me è perché non sa cos'è la vera emozione per uno sport, cioè il sium, poi non è che dici un sium fatto verso la telecamera, un sium, cioè sono proprio, sono andato sotto di loro a farlo, cioè proprio infatti lì, rivedendolo ho detto, potevo evitare, forse, forse sarà. Angolo Juve, primo pallo Campolunghi, si gira, io non ho fatto neanche il Sultano per un gol così, perché non è vero, non può averlo fatto anche in questo modo, sono sei, fai quello che vuoi, fai quello che vuoi. Signori bentornati sul mio canale e soprattutto bentornato a questo nuovo format che abbiamo scoperto nelle ultime settimane, abbiamo chiacchierato con Andrea Fratino, poi con Fuse Gamer e vi ricordo, visto che vi piace tanto questo format e lo state supportando, di continuare a farlo lasciando un like, iscrivendovi al canale e poi ovviamente consigliandomi il prossimo ospite qui sotto nei commenti, oppure su Instagram, dove per esempio negli ultimi giorni vi ho chiesto chi vi piacerebbe vedere come nuovo ospite per una chiacchierata, monopolio, monopolio assoluto, la risposta è stata Luca Campolunghi, Lucone come stai? Buona stai, alla grande, alla grande, sto bene. Periodo bello intenso, hai alzato un'altra coppa alla YouTuber League, a casa non so più dove mettere le coppe. È vero, stai traslocando in tutto questo? Sto traslocando, non ancora, tra poco. Tra poco, con un po' di calma. Tu sei prima un amico di un collega, di un, vorrei dire, rivale sul campo, ma facciamo due sport diversi, quindi non lo posso dire. Un peccato, però torniamo indietro. Partiamo dagli inizi. Nasci a Medegnano? Nasci con Ragnar. Sai, me l'ero preparata bene in questa intervista, avevo detto, potrei dire, a Litz a luglio nasce Erling Braut Campolunghi, invece devo dire, 10 novembre del 99, quasi coetanei, perché io sono del 7 novembre, nasce a Medegnano Luca Campolunghi. Come sono quei primi anni? Tu sei appassionato di calcio, però in realtà sei appassionato di un sacco di sport. Mamma mia. Allora, la mia passione ossessionata per lo sport nasce da mio papà e mio nonno. Tuo papà è allenatore? Mio papà... È stato anche un tuo allenatore? Mio papà sì, mio papà è stato il mio primo allenatore, mio papà ha giocato a calcio tutta la vita, poi età sui 40 si è andato al tennis. Ok, quindi comunque la passione per più sport nasce anche inseguendo un po' quello che faceva lui? Cioè ti ha un po' trasmesso questa cosa? Allora, la passione per il calcio e per il tennis, papà, passione per i motori, il nonno. Ah, quindi comunque è roba di famiglia. Tutto in famiglia. Infatti il mio primo idolo, proprio in ordine cronologico, è stato Valentino Rossi. E poi col nonno mi è nata la passione per la Formula 1. Ok. E lì anche c'è un altro esempio. Forse nella maniera sbagliata con mio nonno, perché mio nonno era super interista, cioè era, eh, nonno ti voglio bene, era. Un abbraccio al nonno. Cioè, lui è super interista e super ferrarista. Io vabbè, super juventino. E super… E quindi lui, mi ricordo, tu pensa, che poi io anche nel mio libro l'ho messo, quello che mi ha fatto innamorare della Formula 1 è stato Hamilton, che infatti adesso che arriverà in Ferrari per me è un sogno proprio… Cioè, la mia gamba, gazzetta dello sport, con Hamilton alla Ferrari. Se vince, lo imbratterò. Tanto di tatuaggi… Poi parleremo, poi parleremo anche di quello. Però c'era nel 2008, Felipe Massa, che si giocava il Mondiale, contro appunto sto novellino, Lewis Hamilton. E tu per dar contro al nonno? Per dar contro al nonno, tifavo il nemico, tifavo Hamilton. E come la vivevate questa cosa in casa? Ma no, io era solo per dar fastidio a lui, avevo otto anni, non è che capivo quello che vedevo. Però ho detto, mi affeziono a Hamilton per dar fastidio al nonno, perché giustamente c'era sto derby in casa, ha vinto Hamilton quel Mondiale. E da lì… E da lì… Idolo. Idolo. Quindi sei cresciuto con Hamilton Formula 1, il dottore, Valentino Rossi, in MotoGP e c'è sempre stata la passione per la Juve fin da piccolo, lato calcio. Sono nato nella culla con la maglietta del Piero. Come dall'ospedale sono finito nella culla, mio papà mi ha buttato la maglietta del Piero e lì poi quando riguardi le foto dici, come faccio a ti fare altro? Esatto, anche se poi tu in carriera più che un 10 sei diventato un 9. Che poi nel 2006 il mio primo idolo calcistico è stato Luca Toni. Ok. Io ho deciso di giocare a calcio con il numero 9 perché Luca Toni in quel Mondiale aveva il numero 9, nonostante lui ha usato tanto il 30. Sì. Però io avevo visto Toni col 9, in quel Mondiale mi sono innamorato di Toni e ho detto, inizierò a giocare col 9 come punta. E poi però tu crescendo, quindi intraprendi una carriera, cioè c'era quel sogno divento calciatore o non hai mai approfondito la cosa, cioè mi piace giocare però… Allora, lo step ho sempre fatto tanti gol, cioè è una cosa che mi ha caratterizzato, però sai finché giochi a livello provinciale, regionale, non è che dici… Tanto che all'età di… L'annata tra i 17 e i 18 anni mi chiama una prima squadra in seconda categoria, carriano. La mia prima squadra dove dici posso vedere di che livello sono… Perfetto. C'era il direttore sportivo che tra l'altro… Facciamo un saluto a Donatino, un bacione a Donatino che adesso ti spiego perché Donatino è tipo il mio idolo, il mio percorso calcistico. Far la seconda categoria per un ragazzo di 17-18 anni uno pesa, ma non è mai facile giocare comunque con gente più grande. Poi un bel salto di categoria rispetto a prima. È passare dalla Juniors che giochi con tutti i ragazzini, così alla prima squadra dove ti trovi anche 35 anni. Esatto. Vabbè dico, papi vado a giocare qui perché mio papà era colui con cui mi confidavo per qualunque cosa, lato calcio. Papà vado a giocare qui, era pure a 10 minuti da Meleniano. Ok. Quindi pure vicino. A posto. Proviamo. Prima stagione tra Coppa e campionato faccio 27 gol. Ha sofferto il salto di categoria. No, no. E lì la cosa bella, tra l'altro perché Donatino mi diceva che ogni gol ti porto le pizzette così. E tra l'altro mi ricordo che lato Lombardia, ti manderò lo screen dell'articolo del giornale. No, non lo screen, ho l'articolo del giornale attaccato a casa. A posto. Ero stato tipo il primo diciottenne delle seconde categorie. Quindi tu ti sei visto sul giornale in quel momento. Campolunghi, poker al Basilio. Cioè io avevo fatto il classico poker, cioè ero praticamente il nuovo ragazzino che avanzava e la cosa che aveva rubato tanto l'occhio che poi arriveremo alla stagione successiva, succede che sullo 0 a 0 prendiamo un rigore che era il primo rigore stagionale. Ok. Tu dici, figli, ci saranno tutti i rigoristi, la squadra. Io ho preso il fallo, mi sono preso il pallone e ho batto… Personalità. E lì la squadra, nel senso lì anche il capitano soprattutto, mi ricordo mi ha detto va bene lo batti perché il capitano era il rigorista. Ok. Mi aveva visto talmente convinto, forse anche con la voglia di far gol così, che mi ha detto va bene vai battilo tu. E che momento della stagione era però? Cioè tu già avevi dimostrato dal punto di vista realizzativo? Ok, quindi si fidavano anche… Non mi ricordo se ero già in doppia cifra però… Ok, ok. Comunque sì. Più facile. Diciamo lo fai all'esordio… Vabbè no, esatto. E quindi mi lascia il rigore e lo segno. Ok. E quella partita finisce 4 a 1 con 4 gol di Campolunghi. Cioè roba che vai a casa, poi vai a scuola, con i genitori, gli amici… Te la tiri un pochetto. Sì, fai tutto il galletto perché è bello. Cioè la seconda categoria non è la Serie A però ti diverti. Certo. E lì poi vabbè quella stagione sono rimasto io rigorista, per fortuna ho fatto 6 su 6 dal dischetto con tanto di cucchiaio… Vabbè quello… No, basta. Perché in fondo, in fondo al cuore, dopo la Juve, lui l'ha anche detto, la passione per Totti e quindi per la Roma io provo a fare calciomercato. C'è sempre stata, no ragazzi? Quindi scrivete nei commenti se vi piacerebbe vederlo alla… Alla Roma Creators. Bello, Fighi. La maglia della Roma mi piace. Eh, l'ha detto eh. L'ho detto. Salviamo questa cosa… Poi insomma… No. Prima stagione… Passiamo alla prima stagione che, Fighi, va benissimo perché comunque 27 gol sono tanti. Tanto che, Fighi, per me si realizza un po' il sogno perché a fine stagione mi chiama Real Melegnano. Ok. Che è la squadra del mio paese. Di casa proprio. Che faceva la promozione. Quindi da lì passi dalla Juniors a seconda categoria, dalla seconda categoria salti ancora di due. Cioè passi dalla seconda categoria alla promozione. E lì nasce il mio più grande problema. Ok. Che ho raccontato più volte. Inizia la stagione 18-19 ancora nel pre-season. Ok. La caviglia fa crack. Che poi è una cosa che ti porti dietro… No, da sempre. Da sempre. Infatti quella stagione che ho fatto a Carpiano è stata una delle poche stagioni che ho fatto senza infortuni perché io da sempre da quando sono bambino che infatti mio papà disperato, mia mamma di più perché ho sempre avuto infortuni tutti gli anni perché ho avuto proprio le caviglie. Che poi per il ruolo che fai tu insomma ne abbiamo parlato tante volte ti pianti proprio con le caviglie. Lì se non rispondono… Eh, perché facendo l'attaccante giochi tanto sulla protezione palla, ti pianti col corpo. È una cosa che ho sofferto tantissimo. Solo che quella volta lì l'ho presa malissimo. Era l'anno dove dovevo fare la patente e dove dovevo fare la maturità. Ok. E il calcio, cioè stando fuori per i primi quattro mesi, il calcio l'ho mollato. L'ho mollato perché… Hai perso la motivazione. No, oltre a quello ero forse più in focus che dovevo prendere il diploma, dovevo prendere la patente. Era diventata un'altra la priorità. E comunque la promozione diventa un impegno perché inizi a fare due o tre allenamenti a settimana. E quel periodo però della tua vita? Tu il focus lo porti su altro quindi? Cioè rinunci a un tuo sogno che era quello di giocare a calcio anche perché la testa era su altro. Caratterialmente quanto è stato importante quel momento della tua vita? Cioè ti ha fatto crescere… Allora, caratterialmente è una cosa che… Vabbè, psicologicamente io ero distrutto. Eh ci credo. Distrutto perché era il primo anno che… Magari io dici in promozione… Magari facevo due gol, capivo che la promozione era troppo… Però dici non posso neanche vedere se sono in grado perché sto male fisicamente. Esatto, anche perché… Cioè sono… Sono consapevole di dirti che il Luca a 19 anni se lo mangiava il Luca di adesso. Ma perché atleticamente… È un'altra cosa. Ero in forma, cioè ero magro, scattavo, adesso faccio fatica a tornare… Ce lasciamo perdere. Vabbè, i due gol si pesano quest'anno. Di questo parliamo con calma, poi ci arriviamo. No, vabbè… L'estate… L'estate quella 19-20… Ok. Mi ero rotto il polso. Lo sai anche io? Giocando in derby di YouTube ero rotto il polso? Io sui gonfiabili. Io ho vent'anni sui gonfiabili. Sì, questa è meglio non raccontarla. E la cosa bella è che dico, vabbè ci credevo, adesso ho il diploma, ho la patente, mi ero trovato il lavoro, facevo l'impiegato dal notaio perché ero ragioniere tramite mia mamma che lei lavora già dal notaio. Guarisco anche col polso che è inizio 2020. Quindi gennaio, febbraio, quel periodo lì. Decido… Covid. È credibile. Il destino. Decido di tornare, tra l'altro, il Real Melegnano, sarà che i direttori comunque conoscevano anche mio papà, così perché… Mi dà la possibilità di rimanere in promozione per giocarmi le mie carte scoppia il Covid. Quindi ho detto, lì era il destino. Sai come… c'è un detto romano favoloso che è, lo dico in camera, «Quand'è giornata, de piallo al culo, er vento tarza la camicia». Che riassume il senso di tutto, no? Perché se una cosa deve andare male, cioè, in un certo modo va male comunque. Era come se qualcuno mi avesse detto, Luca, stai buono, basta, giocare al cane. Scoppia il Covid, quindi rimango anche a casa da lavoro. Ok. Perché io ero nuovo in apprendistato, quindi sono rimasto a casa da lavoro. Finita la zona rossa, inizio la zona gialla, trovo lavoro al McDonald's. Ok. Inizio a lavorare come dipendente al McDonald's e scopro TikTok. E lì, quindi parliamo di estate 2020. Fine 2020. Quindi, ok. Stagione 2021. Fine 2020 mi… Relativamente poco tempo fa anche, insomma. Cioè, tu prima di quella fase lì, da un punto di vista di creator, roba di questo tipo, zero, non ci hai mai pensato. Zero, zero, zero. Non avevi neanche la passione. Zero, zero, zero. Ero uno che usciva senza il telefono. Cioè, proprio… magari Instagram per scrivere a qualche ragazza, no? Giustamente, quelle sono cose che… da calciatore, da numero 9, giustamente, fin da piccolo. Finalizzatore… Finalizzatore bomber. Sin da sempre, no, però… Inizio a fare video e ho la fortuna che i video iniziano ad andare subito. Come… con i video sei partito? Ma io facevo… Già il bandino c'era… All'epoca… Facevo sketch con la mia famiglia e con la mia ex ragazza. Ok. E i video andavano subito, tanto che mi sono appassionato, ho iniziato a incuriosirmi questo mondo, tanto che dopo che ho lavorato al Mac un anno e che coltivavo la passione dei social, pubblicavo contenuti tutti i giorni. Fine 2021, inizio 2022 mi contatta la mia agenzia attuale. Ok. E mi dice… hai voglia di provare a diventare veramente… Un creator. Un creator. E lì ovviamente dovevo dirlo a mia mamma e mio papà, guarda devo lasciare il Mac. Che comunque per loro il Mac era l'entrata sicura. Esatto. Perché comunque vedevano che stavo iniziando a guadagnare dai social. Però c'è sempre quella roba, lo guardo un po' in modo schizzinoso. Che cavolo è. Che mondo è. Però i miei mi hanno detto, per fortuna da genitori moderni, mi hanno detto guarda c'hai 21 anni, se ti tagliamo le ali a 21 anni e non tenti di fare una cosa che ti piace a 21 anni. Ti faccio una domanda che secondo me ti sei fatto anche tu in alcuni casi, perché io conoscendoti ho sempre notato da parte tua una grande umanità e adesso che parliamo effettivamente, mi racconti di esperienze che hai fatto, extra social, che ti hanno formato valori umani prima che mi interessa fare tv, mi interessa fare social e cose di questo tipo. E personalmente io ti conosco caratterialmente, so che sei un pezzo di pane e mi hai fatto da subito una grande impressione. Hai avuto la sensazione in alcuni momenti che magari da fuori, chi non ti conosce, abbia potuto pensare tramite i contenuti, sai con le ragazze, così è un coglione, se l'hai vissuta questa fase? Allora, per fortuna è una cosa che non mi è mai importata. E questo fa tutta la differenza del mondo. Su quello, mentre magari tipo mia sorella già in famiglia, lei è molto più fragile caratterialmente. Poi ho nel senso, perché io sono dell'idea, non mi piace un tuo contenuto, non ti seguo, non ti guardo, non è che commento. Vivi e lascia vivere. Cioè, vivi e lascia vivere. Quindi su quello non mi è veramente mai fregato niente. Che poi secondo me è un po' la discriminante di chi, come nel tuo caso, è abituato ad avere prima di tutto una vita sociale e non social. Cioè, hai i parenti, i genitori, la famiglia, le amicizie come prima cosa fondamentale. Quindi i giusti valori al posto giusto e non vive alla ricerca del numeretto sui social e dell'approvazione comune, tra virgolette. Ma l'esempio proprio che faccio sempre è finale di Champions League, Inter-Manchester City. Ho avuto la possibilità di essere stato invitato con un più uno. Non ho portato il creator per fare contenuti, per fare visual. Ho portato il mio miglior amico che è interista, che fa il pompiere. Hai detto tutto con questa frase. Certo. Capisci, perché per me è il valore. Io se voglio uscire la sera, io voglio andare dai miei amici, dalla mia famiglia. Perché… Sono anche le persone che magari, tu che sei, tornavo a quello che dicevo inizialmente, molto impegnato tra social e altre cose, in alcuni momenti vedi anche un po' meno. Quando io ho un momento libero, non vedo l'ora di vedere le persone con cui ho rapporto umano, che è la cosa più importante, anche perché le persone con cui ho rapporto umano sono la mia forza anche per il mio lavoro. Certo. Perché poi i numeri vanno e vengono. Cioè nel senso, c'è il mese dove posso essere in hype, poi c'è il mese dove posso fare più fatica. Cioè io lo faccio in primis perché mi piace e mi diverto quello che faccio, anche in radio. Cioè io ho un programma in radio che parlo di tutto il weekend sportivo. Dico cosa è successo nella Formula 1, MotoGP, tennis, calcio. Sono cose che farei al bar con i miei amici. Hai la passione, hai la passione. Entrando in Stardust, giustamente loro mi hanno chiesto quali sono le tue passioni, cosa ti piacerebbe fare e io ho detto che a me piace tantissimo il mondo dello sport, ho tantissime passioni, mi piacerebbe diventare verticale su questo. Ho anche condotto l'RDS Summer Festival comunque davanti a decine di migliaia di persone. Ipoteticamente tra dieci anni ti vedi come conduttore? Bella domanda questa, eh? Questa è in crisi. Tra dieci anni mi vedo… Due figli. Due figli. Intanto. Sposato con due figli. Ma penso di essere ancora creator. perché è una cosa che mi diverte. Però sì, mi piacerebbe tanto il sogno sarebbe condurre un mio programma… Ok, sportivo. Sì, sportivo a 360 gradi. Tennis, calcio, Formula 1 e MotoGP. Cioè, perché su questi quattro so di essere tanto ferrato e appassionato. E quella è una fortuna. Cioè, avere tante… Cioè, la passione per lo sport, che è molto diversa da avere la passione per il calcio nello specifico, oltre ad aprirti tante porte, secondo me ti apre mentalmente. E io sono forse nella prima volta della mia vita che sono in una fase dove la Formula 1 mi appassiona ancora più del calcio. Ah, questa è una cosa molto interessante. Cioè, perché nel fuori onda ho detto a Fede che adesso possiamo aprire l'argomento. La passione del giocare a calcio mi è un po' svanita da quando ho smesso di giocare. Quindi, tendenzialmente tu sei gol a partita, li fai quando non hai la passione. Quando hai la passione come funziona la YouTuber League, per capire? No, no, anche lato YouTuber League challenge, pallone d'oro, tutte cose su YouTube. Perché poi giustamente la gente mi scrive, ma Luca sei ingrassato, eri più in forma l'anno scorso. Io semplicemente adesso lo dico chiaramente, qualcuno magari ci rimarrà male, ma io durante l'anno non gioco mai. Gioco solo... Quando per esempio vai a registrare un video con Andrea, oltre al momento di registrazione, quanto dedichi poi a rimanere in campo, a fare un allenamento per esempio? Off camera finito così? Off camera non gioco mai proprio perché... Non hai più quel fuoco calcistico? No, non ho più l'esigenza di dire il calcio. Ok. L'ho perso, è una cosa che ho perso. Non lo so perché... Cioè, giocare a calcio mi piace, per l'amor di Dio, però da quando ho veramente tanto, tanto sofferto per le caviglie da ragazzo, adesso mi rendo conto che... Cioè, non essendo allenato, io ogni partita, ogni challenge che faccio... La soffri? La cosa che mi fa giocare a calcio, quando c'è la telecamera che proprio mi piace tanto, mi gasa, è per i ragazzini che mi seguono. Quello... Cioè, io gioco a calcio e non smetterò mai, cioè io tra vent'anni mi vedo capitano della Juve Creators... Con i ragazzi... Cioè, proprio per... A quello ci arriviamo, perché non vorrei uscire troppo fuori tema e anticipare i discorsi che poi, insomma, abbiamo parlato di calcio, Dalla YouTuber League abbiamo sfiorato un pochino, ma ci arriviamo tra poco, c'è un discorso da fare legato al tuo essere creator, perché tu, nel giro di relativamente poco tempo, sei entrato a gennaio 2022 in Stardust, ora siamo a marzo 2024... Marzo, sono entrato ufficialmente in casa... A marzo? Quindi due anni esatti, quanto sei cresciuto da un punto di vista di numeri, di attività, di esperienze che hai fatto grazie al tuo essere creator? No, più che dei numeri, che comunque, vabbè, sono importanti, è proprio le esperienze che ho fatto, perché io, se mi collego al mio primo tatuaggio... Ok... È l'esperienza più bella della mia vita... Che il mondiale... Che la gente, che purtroppo io ho avuto anche tante critiche, sotto il punto di vista che ho pianto dalla gioia, perché Messi ha vinto il mondiale, ho pianto dalla paura, quando Bagnaia l'ho visto in mezzo al circuito per terra, con tutte le moto che passavano... Di MotoGP hai vissuto un'altra tragedia... E da fan della MotoGP io ho vissuto proprio Simoncelli e l'avevo vissuta malissimo... L'ho vissuto, guardavo la gara e ho i brividi rivenzando... Vissuto malissimo... E la gente che non riesce a capire una cosa del genere, secondo me, è perché non sa cos'è la vera emozione per uno sport... Perché per me, veder Messi dal vivo vincere il mondiale, dopo che... Io non lo nego, io ho pianto quando nel 2014 ha perso la finale con la Germania... Ma perché per me Messi, mentre Tony è quello che mi ha fatto innamorare del ruolo, dell'attaccante, la boa, il pivot, il numero 9... Messi è quello che mi ha fatto innamorare del calcio... Per me, quando parli di calcio, per me Messi è qua, poi si parla di calcio... E poi un'altra cosa importante, secondo me, che incide nel momento in cui tu guardi Messi alzare la coppa e ti commuovi... È che Messi è significato un'epoca della tua vita... Cioè tu sei cresciuto, ti sei innamorato del calcio per Messi, che eri così... Ho vissuto Messi... Poi eri così quando ha perso la finale in Brasile... Eri così e hai vissuto delle esperienze, dei momenti, dei bei ricordi, dei brutti ricordi... Questa è una roba che la gente sottovaluta... Cioè il passare del tempo, che è una tematica straordinaria, collegata a quella che è la tua passione... Quindi il calcio sei lì, hai il privilegio di essere lì... Per me è anche una fortuna riuscirti a commuovere così tanto... Perché molti hanno quasi un... Non un problema, ma caratterialmente esternano meno... Il fatto di esternare così tanto per me è bellissimo... Io, infatti, oltre ad aver pianto quando Messi ha vinto il mondiale... Che secondo me è l'emozione più bella della mia vita... E lo sarà tolta, vabbè, la nascita di un figlio, il matrimonio... Ti parlo proprio a livello di cosa personale... Ok, ok... Una cosa che può darmi tanto a livello di emozione come il mondiale di Messi... Secondo me può essere o la Champions della Juve... Perché non l'ho mai vissuta, perché l'ultima è del 96... O il mondiale della Ferrari... Perché effettivamente io non l'ho... L'ultimo nel 2007 che l'ha vinto Raikkonen... Io l'ho iniziato a guardare nel 2008 tifando Hamilton... Quindi tu pensa se Hamilton dovesse vincere l'ottavo mondiale di Formula 1... Supererebbe Schumacher sulla Ferrari... A livello di emozione... Per me già lo so che scoprirà in lacrime... Perché è una cosa che non riesco a controllare... Cioè io ho vissuto Bagnaia a Valencia che ha vinto il suo primo mondiale... Ho vissuto Messi dal vivo in Qatar vincere il suo primo mondiale... Peccato non essere stato a Melbourne quando Sydney ha vinto il suo primo slam... Però un tatuaggio dedicato anche a noi... Però poi arriveremo anche su quello... E il sogno sarebbe Hamilton che vince con la Ferrari... Stavo pensando quando mi raccontavi di marzo 2022 come entrata in Stardust... Che te poi veramente in poco tempo hai fatto un sacco di cose... Perché il pallone d'oro che hai vinto... Secondo me è addirittura prima dell'estate 2022... Tipo aprile maggio 2022... Poi eri appena entrato in Stardust... Ero magrissimo... Eri magrissimo adesso... No no ero magrissimo... Ero magrissimo ho detto... Guarda i video e scrivi pallone d'oro TikTok 2022... Io mi concentrerai sui capelli... Avevo la faccia scavata... Ma meno male che poi ti infatti cresce i capelli... Perché prima non eri proprio in forma... Da quel punto di vista... Ma vabbè... Insomma questo è un parere personale... Però anche come soddisfazioni personali... Tu ti trovi a essere coinvolto in quel pallone d'oro... Infatti io lo dico sempre... Ringrazio tantissimo Piero e Gabri... Perché lì ho riportato la mia passione... Per il calcio... Al centro... A livello contenuto... Perché mentre prima era una cosa che non mi interessava... Da lì vincendo il pallone d'oro... I ragazzini impazziti... Perché io ero il pallone d'oro di TikTok... Mi scrivano... Oh Luca grande così... Tanto che poi... Nasce il progetto Elei con Andrea Frattino... Per giocare a calcio proprio su YouTube... Quindi tu in poco tempo... Pallone d'oro... Da lì si crea il nome calcistico... Luca Campolunghi nel settore Juve... Volevo inserirti nella Juve quell'estate... Poi non siamo riusciti a organizzarci... Non è... Non c'è stata la possibilità... E io ricordo... Che prima della prima partita della YouTuber League... Che era Juve-Inter... Tu ti fai male... E scherzando mi dicevo... È incredibile... Non riusciamo proprio a farmi giocare nella Juve... Prima non potevamo quest'estate... Ora sono infortunato... Però ti sei portato dietro... Un fratello come Andrea Frattino... Lui ti ha definito fratello maggiore... Quando ci ho chiacchierato... Ha parlato benissimo di te... Lui dal cuore nera azzurro... Ma che... Per giocare insieme a te in quella stagione... Andrea è stata una delle scoperte più belle di questo mondo... Proprio per il fatto che... Lui lo sa... Quando io e Andrea abbiamo iniziato insieme il nostro progetto calcistico... Quando magari facevamo contenuti con altri creator... Lui era ingestibile... Lui era veramente... Caratterialmente dice... Caratterialmente era veramente ingestibile... Io infatti tantissime volte lo prendevo... Oh Andrea devi stare calmo... Cioè... Sembri... Cioè poi magari... Qualcuno ti giudica perché sembri un pat... Perché lui è super competitivo come me... Solo che lui lo esternava tantissimo... Infatti... Sono strafelice perché nell'ultimo anno... È cresciuto tanto... È cresciuto tantissimo mentalmente... Sono veramente felice perché... È una persona d'oro... Lo è sempre stato... Perché poi lui è una persona... Fragile... Ansioso... Mentre sembra il bad boy... È quello... Ma lui è veramente... Cuore d'oro... E se lui ha detto... Che io sono stato da fratello maggiore... Sono felice perché... Lui è stato? È stato il mio fratello minore... Aspettavo la fine... È stato il mio fratello minore... Abbiamo creato un legame bellissimo... Due fratelli... Il 10 e il 9... Una stagione... Mi racconti un po' quello che non si è visto... Di quella Juventus 22-23 all'interno della YouTuber League... Aneddoti di spogliatoio... Cosa vi siete detti prima di scendere in campo a Scampia... Per esempio... Per la finale di ritorno... Madonna... Eh... La Juventus 22-23... Allora... Eravamo consapevoli... Io e Andrea... Che la Juventus... Ci avevano detto che... Era sempre stata la cenerentola... Si era vista in Summer Cup... Purtroppo... Che la Juventus era quella che prendeva sempre schiaffi a destra e a sinistra... C'erano la Juve e la Roma... Poi è rimasta la Roma... E quindi... E quindi... Io e Andrea... Ci siamo messi subito... A disposizione della squadra... Prima lui... Perché io con l'Inter... Prima partita avevo le stampelle... Vabbè... E lui tra l'altro fece una grande partita... Però... No... È sempre stato... È veramente stato un bel gruppo... Perché... Tra l'altro glielo ho scritto anche a Toselli... Il mio capitano... Poco tempo fa... Cioè... Appena si è fatto male... Perché anche lui si è fatto male... Poverino... E... Gli ho detto... L'ho ringraziato... Perché... Nonostante sono... L'anno scorso ero il nuovo arrivato nell'ambiente Juve Creator... Mi sono sentito coccolato... Ho voluto bene... Ha detto una cosa bellissima in un suo video recentemente su di te... Che... Ho fatto parte del nostro gruppo... È vero... L'ho conosciuto... Fai conto... Due settimane fa... È come se lo conoscessi da una vita... E questa è una cosa che poi fa la differenza... È vero... Perché ti vedi anche poco per la YouTuber League... Infatti la cosa che mi dispiace è che... Il gruppo Juve Creator... Ci sentiamo tantissimo sul gruppo Whatsapp... Ma purtroppo ci vediamo pochissimo... Per impegni lavorativi che non siamo vicini... Infatti c'è... Nel senso... La Scarpa d'Oro che ho vinto l'anno scorso... Dalla YouTuber League... Cioè io... Penso che quando l'attaccante... Vince la classifica a Cannonieri... Il merito è... A chi fa far gol all'attaccante... Quindi la squadra... Perché la Scarpa d'Oro non la vinci da solo... Certo... Quindi... Sotto quel punto di vista lì... Mi sono sempre trovato benissimo... Quest'anno siamo partiti forti... Siamo ancora in lotta per la Scarpa d'Oro... E vediamo... Vediamo... L'anno scorso la cosa incredibile poi è che... Parlavamo di... Campolunghi e Fratino... Fratino e Campolunghi... Uno che dipende dall'altro... Io però ho negli occhi una partita... Che hai giocato... Che per me è la partita... Per... Per tanti motivi... E non è una partita in cui tu fai sei gol... Ne fai due... Più un calcio di rigore... Ma ne batti due di calci di rigore... E quella è una partita in cui... Cioè... Se io potessi sognare di reincarnarmi in una persona... Per giocare quell'evento... Direi Luca Campolunghi... Finale d'andata e Fratino non c'è... Fratino non c'è... E Pippega che si reinventa Assistman in quella serata... Tra l'altro fa doppietta anche lui... Però è la notte... In cui Alice viene a vederti per la prima volta... È la notte in cui tu alzi la tua prima coppa con la Juve... E dedichi un gol... Ad Alice... Alla tua fidanzata... Tra l'altro la cosa bellissima... Non so perché... Non me lo spiego ancora... Però tu te lo ricorderai sicuramente... Io... Tu sapevi che io avevo la dedica per Alice... Adesso la racconti che fa più ridere... Perché questa... Nel primo tempo lui ha un'occasione e non segna... Mi aveva detto prima della partita... Se segno... Ho la maglia sei unica per Alice... E ci abbiamo riso insieme di questa cosa... Insomma... Ero pronto... Primo tempo lui ha un'occasione... Non segna ci rimango malissimo... Dico... È un'occasione... Secondo tempo... Vedo questa palla verticale... Di Pippega... Tu che fai in anticipo d'esterno destro... E io urlo... Campolù... Tanto per cambiare... Non succede mai... E dico... Eccolo... È il momento... Lui si avvicina... Si getta... Passa vicino alla panchina... Dove è seduta Alice... E non si ferma... Come non si ferma... Va avanti... Si butta a terra... E fa la risultanza di Holland... Questo è matto... Questo è matto... Cioè... Lui già sapeva... Ne faccio un altro... Cioè... Non dedichi il primo... Perché sai che ne farei un altro... Tu sei matto... È vero... Tu mi dici... Ma guarda che Alice... Ne faccio un altro... E tre minuti dopo... Come... Questa testa è passata per la testa... Non lo so... Sarà che... O il momento della partita... Non ero... Non te la sentivi... Boh... Il 4 a 2... Me lo sentivo di più... 4 a 2... Sei andato lì... Sei unica... Lì è il momento perfetto... Lì l'hai sognato... Lì è il momento perfetto... E poi il momento più... Iconico... Penso... Sei stato ai rigori... Cioè che... Lì è proprio il destino... Perché mi arriva il rigore decisivo... Lo sbaglio... Tirandolo male... Tirandolo male... Cosa proprio non da me... Perché sono sempre stato rigorista... L'ho tirato proprio male... Destino vuole... Che si va oltranza... Si torna ancora... Al rigore decisivo... E tutta la squadra vuole che vado io... Ti lanciano proprio il pallone... Mi lanciano il pallone... Mi fanno... Vai tu... Lì ho detto... Se faccio gol... È quello che si aspettano... Ma... Non vado a colmare l'errore di prima... Perché è semplicemente un gol... Quindi ho detto... Mo... Mo faccio il cucchiaio... Ho detto... Ora faccio il cucchiaio... La Juventus vince la finale d'andata... Della YouTuber League... Con la classe... Con la qualità... Con gli attributi... Con il genio... Luca... Campolunghi... Sono arrivati prima tutti i bambini... Che i miei compagni... Una roba allucinante... Proprio... E lì... Lì è stato bellissimo... Lì veramente... È la serata... È la serata perfetta... Poi... C'è Scampia... Scampia... La finale di ritorno... Scampia... Scampia tra l'altro... La partita più bella di Andrea Fratino... E tu mi dicevi... Off camera la più brutta che hai giocato? Nonostante i due gol? Allora... Nonostante ho fatto due gol... Quella partita... È una partita che... Ero nervoso... Cioè... Ogni palla che stoppavo... Ogni palla che mi arrivava... Da fuori... Eh... Tu ti ricordi... Mi ricorda fuori... Non dicevano sei un grande... Parole pesanti... Bordata di fischi... Ho vissuto veramente una cosa che non mi era mai capitata... E lo so che lì... Non era l'odio verso Luca Campolunghi... Ma... Ma in quel momento ero il rivale di Crispo... Cioè... Era... O comunque un avversario... Sì... Era l'attaccante della Juve... Che era in competizione... Con il loro pupillo... Quindi ci sta che... Ogni palla che toccavo... Era una bordata di fischi... Tanto che... Cioè... Scusate... Napoletani... Ho fatto un'esultanza provocatoria... Dopo il gol... Tipo il sium sotto di loro... E il non vi sento... Cioè... Una roba tipo così... Ma lì è stata... Vabbè... No... Però la cosa bella... La cosa bellissima... Perché il sium l'hanno fatto con te... No... Perché io ricordo... Lui segna il secondo gol personale... Tutti che fischiano... Lo insultano... Lui va a fare il sium... E dagli insulti diventa un... Tutto quanto... E poi ricominciano a insultare... No... La cosa... La cosa bellissima... Che infatti... Chapeau ai tifosi del Napoli... In quella partita... Che a fine partita... Io vado... A parlare con tutti i tifosi... Ok... Cioè... Perché tantissimi volevano parlarmi così... Ok... Io sono andato lì... Tranquillo... Perché... C'era la rete... Quindi... No... Però... E sono andato lì a chiacchierare... Erano 20-30 di loro... Ok... Abbiamo parlato tranquillamente... Ho spiegato il mio punto di vista... Loro hanno spiegato... Il loro punto di vista... Così... Ma abbiamo chiarito... Tranquillamente... E quello è fondamentale... No... Cioè il clima della partita... Ma poi nessuno... Cioè non c'erano cattiverie... Ovvio che... Così come... Loro da un punto di vista... Diciamo a caldo... Perché sei lì fuori dal campo... Ti senti in dovere di... Supportare il Napoli... Anche... Emulando quello che succede allo stadio... Nel bene e nel male... Tu in campo a caldo... Puoi non apprezzare quello che ti dicono... Perché se si va oltre... No esatto... Che poi essendo io il creator... Cioè... Rivedendola... Cioè... Il sium... Poi non è che dici un sium... Fatto verso la telecamera... Un sium... Cioè sono... Proprio... Sono andato... Sotto di loro a farlo... Cioè proprio... Infatti lì... Rivedendolo ho detto... Potevo evitare... Forse... Poi se ce l'ha... Però poi... Anche lì... Coppa a casa... Appunto è mancata per... Per un dettaglio... La finalissima contro la Lazio... Dal tuo punto di vista... Cosa è mancato in quella finalissima? Allora... Secondo me la cosa che... Abbiamo sbagliato... Cosa che anche... Tu mi hai detto... E cosa che io anche ti ho detto... Li abbiamo proprio sbagliato... Perché chiunque... Singolarmente voleva fare protagonista... Io da fuori l'ho sentito proprio... Quella non è... La Juventus... Che è arrivata in finale... Perché è stato il gruppo... Lì c'era una voglia... Forse perché... Io dovevo vincere la classifica cannonieri... Pippo e Fratino... Si stavano giocando l'MVP... Fenn è il miglior portiere... Fenn è il miglior portiere... Quindi c'è... Col fatto che... Tutti e tre... Nella nostra testa... Eh no oggi... Tra i tre... Devo essere io il miglior... Eh... Io che... No... Devo segnare per forza... Lì abbiamo proprio sbagliato... Perché secondo me... C'era una mania di protagonismo... Che... Ci ha tagliato le gambe... Non doveva mai esserci... Quella finalissima... È stato un peccato... È stato un peccato... Perché poi... Con quella contro il Milan... Sono tre le coppe intermedie... Ma... La coppa proprio... C'è la Lazio... C'è la Lazio... Quest'anno... Siete già in finalissima... No per il regolamento... Una preoccupazione di molti... In estate... Da chi ci segue... E anche chi è all'interno... Io ero... Non preoccupato... Ma curioso... Come giocherà la Juve... Senza... Senza Fratino... Come si troverà Luca... Senza Fratino... Loro che sono stati... Quei due... Che nell'immaginario popolare... Hanno guidato la Juventus... Quest'anno siete ripartiti con un 9 a 3... Mica male... Però... Il gruppo storico è quello dello scorso anno... Tu mi sembri sempre al centro del villaggio... E quindi insomma... È un bel gruppo... Infatti... Infatti tantissimi magari pensavano... Gli elei si sono separati... Quindi... Luca farà meno gol... Fratino renderà meglio... Ma in realtà... Cioè... Al cuore non si comanda... Io sono giuventino... È giusto così... Ti dispiace un po' di... Aver vissuto... Quel... Luca contro Andrea... Quel... Juve contro Inter... Infortunato... Ti fai male subito... C'era un po' tra di voi la rivalità... Ci avete scherzato su sta cosa... No beh... Ovvio... C'era... Che poi lì... Ripeto... Juventus-Inter... La mazzata clamorosa... Che secondo me è importantissima... Sono arrivato... A partita che stava iniziando... Quello è fondamentale... Per i beni di lavoro ricordiamo... Si è arrivato proprio... Sì... Perché avevo una trasmissione in radio... L'avevo detto a Fede... Lo sapeva... Avevo... Avevo un lavoro... E sono arrivato proprio di corsa... Zero riscaldamento... Cambia... Non ho parlato con i miei compagni... Che sono cose che comunque caricano... Prima della partita... E poi soprattutto... Andiamo in svantaggio... E mi faccio male dopo tre minuti... E nonostante questo però decidi di rimanere in campo... Zoppicando... Però... Ne parlavamo no? Due su di te c'erano comunque... Quello che dicevo infatti prima... Sapendo che... Comunque potevo fare poco e niente... Perché... Stavo in piedi e... Facevo quello che potevo... Perché non riuscivo a fare niente... Ho detto... Parlato così anche coi ragazzi... Io stringo i denti... E resto in campo... Perché io stando davanti... C'erano Italo e Raimondi... O Italo e Insa così... Che vuoi non vuoi... Non mi lasciavano mai da solo... Cioè... Campolunghi è infortunato... Comunque... È Campolunghi... Comunque... Non facciamolo calciare... Abbiamo capito che non si gira... Però... Stiamo lì addosso... Anche perché... L'unica palla che hai avuto... Uno contro uno col portiere... Hai segnato il gol più pesante... Forse proprio... Perché di gol ne hai fatti... Ma quest'anno pesano... Forse anche più dell'anno scorso... Quello... Quello con l'Inter... La Lazio comunque... Fai quello dell'1 a 0... Ne fai 6... Ma fai quello dell'1 a 0... Dicevamo alla prima palla toccata... Con il Milan alla prima palla toccata... Su Carpani... Non su... Di me... Pensavo stassi dicendo SIC... No 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 no... Stavo per dire SIC... No... C'è il senso... Ti giri... Fai gol... Con l'Inter... Fai il gol che vi manda in finale... Ho fatto l'assist a Ron... Ragazzi... La storia di YouTube... La storia di YouTube... E io ho fatto parte di quella storia... Facendo far gol a Ron... No però... Goal... Quello con l'Inter... È il più pesante di tutti... Perché è proprio... Il gol che ci manda in finale... Ed è la partita che... Quando a The Corner... Tutti avevano detto... Io non sento di meritarmi questa finale... Tu hai detto... Io ti ho detto... Fì... Io me la sento e come... Sono rimasto in campo... Solo perché... C'era l'opzione finale... Cioè perché se... Quella partita lì... La Juve non si giocava niente... Ah certo... Smettevo di giocare al quinto minuto... Perché... È proprio giocandoci sopra... Che ho peggiorato la caviglia... Adesso l'obiettivo è quello di vincere... Ovviamente... L'anno scorso... Vi è rimasta penso a tutti... Un pochino qua... La sconfitta... Luca Campolunghi... Accetta di non vincere la YouTuber League... Se... Se quando sarà il momento... Alice mi dirà di sì... Signori... Ho i brividi... Signori... Batte forte il cuore... No io... Io sogno di... Di sposarmi... Nel giro di... Due o tre anni... Me l'ha detto con gli occhi lucidi... Tra le altre cose... Sì... No... Ma vabbè... Lei mi ha svoltato la vita... Proprio come... Persone... Tu sai che io alla fine di questo format... Ho un gioco in cui... Ti chiedo cosa ne pensi di alcune persone... Alice l'ho lasciata fuori? Alice è come Messi... Esatto... Alice è veramente la... E quindi adesso ti dico soltanto una cosa... E tu vai a ruota libera... Alice Muzza... Alice Muzza è... La donna che mi ha cambiato la vita... Cioè... Da quando... Da quando sto insieme ad Alice... Mi sento proprio completo... Come persona... Perché sento che... Non mi manca niente... Ho tutto... Sono felicissimo... Quando arrivo a casa... La vedo... Dormo con lei... È la sensazione più bella del mondo... È la prima che... Mi sprona... Che mi stimola... Che mi aiuta... In tutto quello che faccio... È la mia prima sostenitrice... Se deve dirmi qualcosa che non va bene... Me lo dice... Se deve dirmi qualcosa che va bene... Me lo dice... La mia famiglia... È innamorata di Alice... È la mamma dei miei figli... Non so cos'altro dirti... È la donna che voglio sull'altare... È la donna che voglio che... Faccia la mamma dei miei figli... E di questo sono... Sicuro al 100%... È stata la... La cosa più bella che mi sia capitata nella mia vita... Ah beh... Queste sono... Sono belle parole che sognavo... Di sentire verso di me... E invece ha scelto di sentirle... Di... Di... Però... Un ti amo ad Alice... È paragonabile a un... Fai quello che vuoi di Federico Marco... Oh... Molto bene... Molto bene... Adesso... Vediamo se vi faccio lasciare... No... Sto scherzando... Però... Però c'è il giochino... C'è il giochino... Allora io rispetto al solito... Che giochino è... No... In realtà ce ne sono tanti di giochi stavolta... Perché... Lo sapete... Confuse e... E fratino abbiamo fatto... Il giochino delle foto... Quindi voi dovete indovinare nei commenti... Le foto che faccio vedere a Luca... Lui mi dice cosa pensa di quella persona che c'è in foto... E voi indovinate nei commenti... E poi c'è la telecronaca a un gol... Che adesso vedremo quale sarà... Perché ne ha fatti pochi il ragazzo... Per oggi ho aggiunto altri due giochini... E... E partiamo da uno dei due... Perché tu sei uno che comunque tra... Le... Insomma il pubblico femminile dicevamo... Ti sei difeso per... Per tanto tempo abbastanza bene... E... Da un punto di vista anche di contenuti... Con altre creator... Ragazze... Hai fatto tanto insomma... Quindi... Tu che sei uno che ha occhio... Ok... Sempre lasciando Alice fuori da questa classifica... Mi dovrai fare... Dal quinto posto al primo posto... Senza sapere l'ordine... Ok... Dovrai piazzare il nome che io ti dirò... Ipotesi... Ora Alice è fuori da questa classifica... Ma... Posso dirti Alice Muzza... E tu mi dici terza... Seconda... Prima... Quarta... Ovviamente sarebbe prima fuori... Esteticamente si parla... Esteticamente si parla... Esteticamente... Ok... Quindi cominciamo con questa ragazza... Avete capito il gioco? No... Bene è lo stesso... Allora... Primo nome che ti faccio... Cinque posti... Scegli tu dove... Dove metterla... Alice Carollo... Uff... Esteticamente... Dall'1 al 5... Senza sapere chi c'è dopo... Mizzica... Sei partito bene... Io non avevo dubbi... Alice Carollo... Belli onda... Io c'ho un problema... È bellissimo... Tre... Tre... Ah... Pensavo... Ok... Ok... Samara Tramontana... Ma vedi qua... Cavolo... È troppo mia amica... C'è... Sai a volte i rapporti umani... Danneggiano quello che è poi... Il bandolo della matassa... Ci sono dei momenti nella vita... In cui bisogna prendere decisioni anche scomode... Tipo quella che sta prendendo Luca... Un uomo distrutto dalla vita... Mi insega... È passata una settimana nel frattempo... Ma siamo ancora qui... Madonna... E cavolo... È troppo difficile mettere una ragazza che è... Tua amica vera... Cavolo... Quattro... Quattro... Ok... Terzo nome... Lisa Lucchetta... No... Dai... Ma anche lì... Ma... Ragazzi... Qui insomma... Lisa Lucchetta... Lisa Lucchetta... Eh... Lisa è bellissima... Eh... Vuol dire a me... No... Ma la scuola... No... Nel senso... Nel senso che comunque è oggettivo... Lisa... Allora... Ti dico due... Per l'età... Quindi due posti rimangono... L'uno e il cinque... L'uno e il cinque... Dai... No dai... Come faccio... Però ti posso dire... Non lo so... Ti dico il quarto nome... Martina dell'Anna... Eh... Ma se non so chi c'è dopo... È il rischio del mestiere, no? È la vita che funziona così, ragazzi... Prendete decisioni... Non abbiate paura... Non ti conviene... Non ti conviene dirmi prima la prima... Almeno c'ho la scelta... No... E allora... Facciamo così... Ti do una mano... L'altra è... Alice Perego... Ecco... Questo sorriso già mi ha detto tutto... Eh... Però... Bel duello, eh... Allora... Bel duello... Bellissimo duello... Però... Alice... La mia ragazza... Lo sa... Secondo me... Poi... C'è... Suggettivo... Personalmente non la conosco... Quindi ti parlo solo di estetica... Chi non la conosci? Alice Perego... No... Martina la conosco... Che chiedo... No... Alice Perego non la conosco... Però secondo me... Alice Perego esteticamente è bellissima... Ok... C'è... È un tipo che proprio mi piace esteticamente... Quindi ti metto... Prima Alice Perego... Quindi... Alice Perego prima... Lisa Luchetta seconda... Alice Carollo terza... Samara Tramontana quarta... E Martina Dell'Anna quinta... Allora... Ti ho preparato... La stessa... Lo stesso giochino... Con i creator forti a calcio... E stavolta non ti darò una mano... Vai... Allora... Il primo posto... Ah... Il primo posto... Il primo posto... Il senso... Sembra un po' eccessivo... Il primo nome... La garra argentina... Italo... Bisogna vedere se hai fatto un mix... Se hai messo solo fenomeni... Chi lo sa... La vita... Dai proviamo... Stiamo nel mezzo... Tre... Tre... Capitano... Il mio capitano... Allora... Fuori classifica... Non ti metto... Non ti metto primo... Solo perché... So che sei uno umile... Non ti piace prendere la copertina... Quattro... Secondo me hai messo qualcuno... Sergio Cruz... Uno... No... Sergio... Sergio... Cioè... Sergio Cruz... Non è un creator... Sergio Cruz è un giocatore... Fortissimo... E ci può stare... Speravo nel tranello... Invece niente... Sick Wolf... 5... Non neanche se avevo Sick Wolf primo... Ne ho messi lui e Toselli... Ho detto... Magari... Ci scappa qualcosa... Niente... Bravo... Perfetto... E la sei gestita bene... L'avresti fatta così proprio... Perfetta... Sì... Sì... Ci può stare... Anche come Valori... Sergio... Tu non l'avresti fatta diversa... No... Onestamente... È oggettivamente così... Sick... Solo perché era rimasto il quinto posto... Se no... Altrimenti c'era il sesto... No... Si vuole bene... Sei un grande... Ti amiamo tantissimo... Ora... Ulteriore gioco... C'è quello delle foto... Insomma... Io ti faccio... Dalla mia mano... Perché se no... Fius ha fatto i danni... Se hai visto le immagini successive... Io ti faccio vedere... Ti faccio vedere... Delle foto... Mi raccomando... Nei commenti... Alla fine di questi cinque nomi... Li scrivete nei commenti... Vedete un po'... Cioè... Vediamo un po' se poi... Avete indovinato... Eh... Lui è... Quindi è un lui... È un lui... Che ne pensi? È un ragazzo che ha una fame... Della mamma... Lo ammiro tantissimo... Per la forza... Di volontà che ha... Cavolo... Anche lui... Un altro lui... Si capì... È un altro lui... Un ragazzo... Molto educato... Molto gentile... Cioè... Per le poche volte che ci ho parlato... Perché non ci conosciamo tantissimo... Veramente un bravo ragazzo... Grazie... A giocare... A giocare a calcio è... Molto forte... Condividiamo... Lo stesso ruolo... E lo stesso numero di maglia... Valerio Mazzelli... Mannaggia... Mannaggia... Terzo nome... E poi ne mancheranno due... Basta guardare che poi... Insomma... Tradimento... Sorella... 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 Sì... L'ho presa... L'ho presa sotto la mia... La protettrice... Da quando lei è... È nata... Nel mondo del web... Quarto nome... Il mio fratello minore... Ultimo nome... Sei pronto? Hai ansia? Persona interessante... Penso di non conoscere questa persona... Bene fino in fondo... Quindi secondo me... È un libro da scoprire... La chiudi così? La chiudo così... Almeno nessuno può capire... Ok... Io invece aggiungo una cosa per i veterani che la meritano... Ho ancora due posti dietro... O erano tre... Però... Tre... Erano tre... Ho ancora tre posti dietro... E perché face quello centrale... I veterani sanno... Allora... Tu prima dicevi... Che un ti amo... Di Alice è equiparabile a un... Fai quello che vuoi... Di Federico Marconi... E io... Ti faccio commentare proprio... Quel gol lì... Visto che io praticamente... Non l'ho commentato quel gol... Perché non so più che dire... Era il sesto della partita... Fai tu... Fai quello che vuoi... Ah... Fratino... Non voglio metterti pressione... Mi ha detto che... Tu sei molto bravo a fare la telecronaca... Ecco... Andiamo... Quando voglio... Sì... Calcio d'angolo... Ah fighi... Spesso è già partito... Madonna... Pensavo c'era la rincorsa... Cioè... Aspetta... Fighi... Non ero pronto... È già partito il calcio d'angolo... Purtroppo la clip è quasi... Ho detto... Fighi... Quindi è già stato battuto il calcio d'angolo... Dico... Palla dentro... Fighi... Pensavo... Sai... La rincorsa... La preparazione... Sì... No... Zaghenio... Subito... Sorpresa... Alexander Arnold contro il Barcellone... Palla dentro... Subito Campolunghi se la alza... Controllo... Girata... Campolunghi... Al volo... Ma cosa ha fatto il 9 della Juventus? Cosa ha combinato... Ancora una volta... Per la sesta volta... Nella stessa partita... Il bomber bianconero... Un gol... Clamoroso del 9... Mamma mia... Ma cosa ha fatto Fede? Sono commosso... Da Campolunghi... Qui e da Campolunghi... Qui... Guarda che l'hai commentato bene... Poi possiamo parlare del diaframma... Se vuoi... Però... Perché... Se è un tiro basso... Poi sei esploso... Però bene... Cioè... Sui tempi c'eri... Ragazzi... Secondo me... Non è andato male... Cioè... Adesso voglio bene agli altri due... Ma secondo me... Nell'ordine... Sei... Sei primo anche qui... Secondo me... Adesso non so i prossimi... Vediamo... Però... Però vediamo... Oh... Lucone... Mi sono divertito tantissimo... Con questa chiusura soprattutto... Ci vediamo in campo... Da lontano... Io sarò fuori dal campo... Non ho qualificato... Juve-Roma... Prima volta che gioco con la Roma... Io non ci sono... Destino eh... Contro che e te non giocheremo mai... A meno che... In finalissimi... Allora... Con la Roma... Mi mancano due gol... Per arrivare in doppia cifra... C'hai due partite... Io ci provo... Ma no... Ma c'era Lazio... Anche no... La tua vittima preferita... E per forza... Ho fatto otto partite con la Lazio... Cioè... Andiamo... Vediamo... Adesso... ... Vediamo... Ciao